C'è la Puglia, fra le quattro regioni d'Italia in cui le donne sono più svantaggiate rispetto agli uomini. Il tacco d'Italia è fanalino di coda in tema di parità di genere, insieme a Calabria, Campania e Basilicata, non soltanto dello stivale ma di tutta Europa. Il dato emerge dalla prima mappa dell'osservatorio regionale sull'uguaglianza di genere pubblicata dalla Commissione dell'Unione Europea. Compilata sulla base della combinazione dell'indice di successo e quello di svantaggio femminile, questa fotografia della situazione riporta per le regioni del sud Italia un punteggio che si attesta mediamente su quota 37. Fa meglio di tutte l'Emilia Romagna, con 51 punti, seguita da Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano che si attestano intorno ai 50. La Commissione, fanno sapere da Bruxelles, continuerà a lavorare alla cremente per un'Europa di parità di genere, lo ha detto la Commissaria per la coesione, Elisa Ferreira, che parla di un impegno duro e costante. Allargando lo sguardo, secondo i dati diffusi, la condizione femminile tocca il punto più basso in alcune regioni della Grecia e in diverse zone della Romania. In cima alla classifica c'è invece Helsinki con 79 punti. Fino a poco tempo fa si parlava di quote rosa, mentre adesso il colore ha fatto spazio ai punti e a una classifica. Uno studio parla di più di mezzo secolo come tempo necessario affinché le donne raggiungano le stesse opportunità degli uomini. A netto dei punti e delle classifiche è evidente che ci sia ancora un gran bel da fare.